La Serie D aspetta il Gela. Il Gela è pronto per il salto di categoria. Mancano solo due punti alla compagine biancazzurra per brindare. Due punti per coronare il sogno. Un sogno di un'intera città che finalmente ritorna a respirare aria salubre. Il percorso è stato durissimo, intenso, faticoso. Si è partiti dai campi di periferia, quelli in terra battuta. Tra poco si ritornerà a giocare ad alti livelli in un campionato in cui militano squadre dal passato glorioso e che rappresentano anche i capoluoghi di provincia. Solo due punti, cioè due pareggi, separano il team allenato dal condottiero Totò Brucculeri dalla quarta serie. Domenica scorsa, prima, durante e dopo la gara vinta col Castelbuono, i ragazzi della Curva Angelo Boscaia hanno più volte intonato un vecchio ma attualissimo ritornello. Ritorneremo in Serie C. Già dunque si pensa al futuro. Ma come sottolineato dallo stesso allenatore biancazzurro, proprio domenica scorsa, ancora non si è vinto nulla. È vero, è inutile nasconderci dietro un dito, la promozione è a portata di mano. Il Gela è artefice del proprio destino. I cinque punti di vantaggio sulla diretta inseguitrice alla San Cataldese sono un buon bottino a due gare dalla conclusione. Basterà, come dicevamo, ottenere solo due punti nelle restanti partite e poi via ai festeggiamenti. Ma i tifosi vogliono già festeggiare da domenica prossima ed ecco perché si stanno organizzando per seguire in massa Buonaffini e compagni in quella di Paceco. La partita però è tosta. Si giocherà contro una squadra, il Dattilo Noir, che vuole consolidare la sua posizione nella griglia dei playoff. Impegno dunque assolutamente non facile. Però il Gela, reduce da ben 6 vittori di fila, non vuole più fermarsi. Ed anche in terra trapanese cercherà il successo.